Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, ok, conosciamo la più grande truffa della storia del mondo, quella di Bernie Madoff, condannato a 150 anni di carcere per aver truffato oltre 36.000 clienti intorno agli anni 90, raccogliendo e quindi facendo perdere ai suddetti 20 miliardi di dollari di investimenti. Ok, conosciamo la più grande truffa del rock'n'roll, cioè i Sex Pistols, un gruppo di scappati di casa incapaci di suonare band creata a tavolino da quel genio che risponde al nome di Malcolm McLaren e della sua compagna Vivienne Westwood, fenomeno inizialmente creato con l'idea di vendere più magliette nel loro negozietto di King's Road. Ok, ma conosciamo Rudy Kurniawan, indonesiano, considerato il più grande truffatore della storia nel mondo del vino? Se la risposta è no, mettetevi comodi che ve la racconto io. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale naturalmente. Come dico sempre, gesto preziosissimo per me e per il lavoro che sto facendo, per voi un gesto gratuito. Più della metà di voi vede i miei video, siete tantissimi e vi ringrazio sempre assolutamente, ma non siete iscritti al canale, lo vedo. Quindi cliccate quel bellissimo e benedettissimo bottoncino perché a voi non fa differenza e a me ne fa tantissima. Mi supporterete in questo modo alla grande. Grazie. Anzi, facciamo una cosa. Vi do uno stimolo in più. Chi si iscrive e me lo segnala via email all'indirizzo qui sotto, info-sensimovimento.it, avrà in omaggio la mia pubblicazione le parole del vino, ovvero il vocabolario del sommelier. Un preziosissimo ausilio per voi in formato pdf. Nell'anno 2000 un ragazzetto indonesiano che risponde al nome di Zen Wan Huang sbarca in California con il visto per gli studenti. Ha 24 anni e proviene da Jakarta. Ecco, avviso che da qui in poi le notizie sulla più grande truffa vinicola mai perpetrata al mondo potrebbero essere a volte contraddittori e confusa. Anche per l'FBI che condusse le indagini, peraltro. Comunque lo studentello asiatico non si occuperà mai di libri, questo è certo, ma presto cambia identità, cosa peraltro molto frequente tra gli asiatici che prendevano nuova residenza negli Stati Uniti, e si fa chiamare Rudy Kurniawan. Nel 2001, un anno dopo, arriva l'affolgorazione per il mondo del vino da parte del nostro Rudy quando festeggiando il compleanno di suo padre in un ristorante su Fisherman Wharf a San Francisco apre niente popò di meno che una bottiglia di Opus One del 1996, uno dei più celebri e ricercati rossi di California. E non solo. Kurniawan, che all'epoca aveva solo 25 anni e viveva nel sobborgo di Arcadia, contea di Los Angeles, ne rimane affascinato, folgorato, e presto inizia a setacciare le enoteche della città raccogliendo in breve tempo circa 200 bottiglie di vini pregiati. E subito naturalmente la prima domanda. Ma questo, tutti sti soldi, ma dove li becca? Alcune fonti, tra cui lui stesso, assicurano che il simpatico Rudy sia il rampollo di una benestante famiglia indonesiana di commercianti, che gli paga una sostanziosa indennità mensile purché se ne stia lontano dagli affari di famiglia. Mi sembra che ci siano casi simili anche in Italia. Si scherza, eh? Invece altre fonti accertano che due zii di Kurniawan in passato, guarda caso, avrebbero perpetrato una colossale truffa ai danni di alcune banche e da lì la florida disponibilità economica del ragazzo. Rudy inizia a partecipare a frequentare le degustazioni del red carpet, un'enoteca a Glendale, sempre nella cotea di Los Angeles. E all'inizio del 2002 si assicura un lotto intero del famoso Syrah sine qua non ad un'asta a paso Robles. Ma come accade spesso in questi casi, l'interesse di Rudy si sposta verso l'alto. E questo vuol dire, in termini collezionistici, solo ed esclusivamente Bordeaux e Borgogna. E vedo subito le vostre facce corrucciate con un domandone che vi si stampa sulla fronte. E i nostri? Il Monfortino di Conterno, lo Spers di Gaia, il Masseto, le riserve di Brunello di Soldera o di Biondi Santi, il Greppo, il Sassicaia. Raga, queste sono etichette strepitose, celebrate e premiate in tutto il mondo. Indiscusso questo, ma in questa super super nicchia di mercato i francesi fanno davvero un altro sport. I collezionisti nelle aste internazionali si contendono a botte di migliaia di dollari a bottiglia? A torto o a ragione? Solo vini di Bordeaux e di Borgogna, con qualche altra piccola eccezione sui californiani talvolta. Perché? Perché solo queste etichette regalano, si fa per dire, uno status unico, inimitabile e inarrivabile a oggi. Ma torniamo alla nostra storia. A onore del vero va detto subito che il ragazzo dimostra grande talento, soprattutto a livello di degustazione, quindi sensoriale, pare addirittura fuori dal comune ed è anche dotato di grande memoria, studia, si impegna, conosce, impara e in breve tempo diventa un archivio vivente di cantine, etichette, annate. Questo gli va letteralmente riconosciuto. Ecco che in questo modo si accredita piano piano, ma neanche tanto piano piano, direi velocemente, si accredita, dicevo, nel miglior modo possibile l'ingresso nel mondo dorato dei super collezionisti internazionali, che sono prevalentemente di lingua inglese. Inizia a partecipare a grandi degustazioni, le possibilità economiche continuano a non mancargli e anche alle degustazioni alla cieca inizia a riconoscere vini, chateau, annate specifiche. Un fenomeno. Diciamo che se non si fosse dato al crimine, molto probabilmente sarebbe diventato un grande critico enologico a livello internazionale. Sembra un paradosso, ma non lo è. La sua fama tra i grandi connezionisti cresce nel giro di pochi mesi. Il New York Times stima circa un milione di dollari al mese di acquisto di bottiglie nelle aste. Compra, compra, compra molto e compra anche in quantità e vende poco. Questo in realtà determina sul mercato una crescita importante dei prezzi dei vini. Sposta il mercato letteralmente verso l'alto. La sua capacità di acquisto è mostruosa e ovviamente in questo modo fa guadagnare le case d'asta, i broker, anche i merchant e soprattutto fa felici i super collezionisti che spendono molto ma hanno sempre tutto quello che cercano e che vogliono. E naturalmente il suo stile di vita si adegua immediatamente. Abiti firmati, orologi extralusso, supercar, American Express Centurion, che è la carta di credito black in titanio più prestigiosa al mondo. Insomma, tutto ciò contribuisce ad elevare progressivamente il suo status di superintenditore e di superbroker di Fine & Rare Wines. E va detto, a causa della sua fissazione per il Romane Conti, viene soprannominato Dottor Conti. Nel 2004, pensate, Rudy riesce a farsi pubblicare un articolo niente popò di meno che sul sito di Robert Parker, il guru della degustazione e della critica enologica internazionale. Articolo relativo a una mega galattica serata di degustazione, con amici collezionisti di New York, dove Kurniawan porta addirittura dalla sua magica cantina, come la chiama lui e alla luce dei fatti ne avrà ben donde, porta, dicevo, addirittura due casse di Romane Conti Vendemia 45, battuto ad un'asta per singola bottiglia nel 2018 a 558 mila dollari. Disse che aveva acquistato queste due casse da un collezionista asiatico per 2 milioni di dollari. Ogni sera il gruppetto beve dalla immensa scorta di Kurniawan e poi tutti finiscono al Creux, un prestigioso ristorante del Greenwich Village di New York, dalla cantina contenente 150.000 bottiglie di vini pregiati, che tiene aperto fino alle 3 del mattino per loro, dove Rudy continua a ordinare e a bere una bottiglia preziosa dietro l'altra, raccogliendone i vuoti. Verso il 2004-2005 qualche super collezionista inizia ad avanzare dei dubbi su alcune bottiglie passate per le mani di Kurniawan. Si iniziano a denotare talvolta delle incongruenze, delle stranezze sulle annate, sulle quantità disponibili da Kurniawan o anche sul vino stesso dal punto di vista strettamente sensoriale. Almeno inizialmente però bisogna sapere che si innesca un curioso meccanismo diciamo psicologico. Bisogna sapere che questi collezionisti sono di fatto ossessionati dal possedere e poi bere queste strabilianti bottiglie. Sono disposti a spendere qualsiasi cifra per possederle ed è un'esigenza che spesso poi sfocia nel patologico, una sorta di dipendenza che peraltro Kurniawan, guarda caso, riesce sempre a soddisfare a pieno. Un vero e proprio pusher di vini super pregiati e super rari, la cui disponibilità sembra non terminare mai. Quindi andare a dire a queste persone che ci sono dei problemi, delle incongruenze, che quei vini potrebbero essere falsi, che lo stesso Kurniawan potrebbe essere un falsario, sarebbe come andare a rompere d'improvviso un meraviglioso giocattolo. Inoltre non dimentichiamolo, l'abbiamo già detto, con questo giochino stanno guadagnando in tanti e cifre importantissime. Gli châteaux francesi stanno vedendo i prezzi dei loro vini lievitare come noi vediamo lievitare il prezzo della benzina, con qualche zero in più. E inoltre non avrebbero nessun interesse ad associare il loro nome, le loro etichette a degli eventi negativi, a delle denunce, a dei processi. Questo giochino sta portando profitto ai merchant, ai broker, alle case d'asta soprattutto. Insomma, è un apparente paradosso, ma non c'è un reale interesse ad andare a scoperchiare la gallina dalle uova d'oro, cioè a uccidere la gallina di Pandora, cioè ad aprire il vaso. Insomma, mi avete capito. Gennaio 2007, ennesima degustazione privata di altissimo livello. Un collezionista, insospettito dalle tante voci che ormai circolano, estrae una lente di ingrandimento e incomincia ad indagare una delle etichette in degustazione. Ed effettivamente sembra apparentemente perfetta e corretta, ma tutti i numeri di codice sono invertiti, come se fosse una perfetta fotocopia inversa. E sei degli undici vini portati da Rudy sono così ritenuti seduta stante dei falsi. La degustazione quindi evidenzia per la prima volta che comunque Rudy è coinvolto in qualcosa di losco, di anomalo, di illegale. Ed ecco che il giochino inizia sinistramente a scricchiolare. Un altro super collezionista assolda esperti investigatori. Alcune bottiglie di Courniauand ritornano nei grandi châteaux francesi dove vengono effettuate delle perizie e molto prudentemente i francesi dichiarano bottiglie probabilmente false. E quindi le restituzioni delle bottiglie per i rimborsi alle case d'asta, ma anche ai broker e ai merchant, incominciano a diventare consistenti, sempre più consistenti, per diversi milioni di dollari. Entra così in crisi la fonte di finanziamento primaria di Rudy Courniauand, disponibilità economica che quindi non proveniva dall'Asia, o forse solo inizialmente, ma che oggi proviene solo ed unicamente dalla vendita di Courniauand alle case d'asta. Inizia a diventare debitore di milioni di dollari a collezionisti privati e a case d'asta, ma c'è ancora chi lo difende e lo aiuta con prestiti generosissimi, perché la barca di Courniauand incomincia a fare buchi da tutte le parti. Passa ancora più di un anno, arriviamo al 25 aprile 2008, ad un'asta di Hacker, socio amico fedele di Rudy, e si presenta un umone dai capelli lunghi. Si tratta di Laurent Ponceau, un celebre produttore francese, soprattutto dell'ambita etichetta Claude Saint-Denis, etichetta presente in quell'asta con ben 22 lotti e di cui la prima vendemmia è il 1982. Peccato che nel catalogo dell'asta Courniauand abbia portato alcuni lotti a partire dal 1945 fino al 1959. E infatti Ponceau è lì per ritirare i lotti e denunciare Courniauand. Ma anche questa prova apparentemente schiacciante non è la smoking gun, la pistola fumante. È quasi impossibile averla in un mondo, in un mercato così scivoloso e fumoso. E quindi Courniauand gioca in contropiede. Dice che è lui stesso ad essere stato truffato nell'acquisto da parte di alcuni scaltri venditori asiatici, di cui fornisce addirittura i numeri di telefono. Va detto per la cronica che questi numeri, una volta verificati, risulteranno di negozi e centri commerciali a Jakarta. Nulla a che vedere. Passa ancora un anno, siamo all'inizio del 2009 e Christie's New York presenta ancora ad un'asta importante dei lotti di Rudy. Capite quanto è difficile scardinare questo complicatissimo meccanismo, pieno di interessi incrociati, un vero ginepraio. Anche se oltre ad evidenti e ingentissime difficoltà finanziarie, Courniauand inizia a collezionare diverse denunce da parte di super collezionisti. Ma come spesso accade in queste intriganti e intricate storie, così ben architettate e congegnate, dove dietro c'è un vero talento, un genio del male, ma sempre un genio, spesso dicevo il meccanismo salta per una casualità, un elemento non previsto, addirittura estraneo alle vicende, un'inizia imprevedibile e, puff, il castello si sgretola. E infatti all'alba dell'8 marzo 2009 una mezza dozzina di agenti dell'FBI suonano alla porta della casa di Rudy ad Arcadia, nella contea di Los Angeles. Lui apre la porta in pigiama, in casa c'è solo la sua anziana madre e gli viene immediatamente contestato il reato di immigrazione clandestina. Pensate, immigrazione clandestina. Infatti nel lontano 2003 era stata respinta la sua richiesta di asilo e da lui mai ripresentata. Quindi per paura di fuga il giudice, che peraltro ha iniziato a indagare su di lui, proprio grazie ad una denuncia di un super collezionista, emette un mandato di arresto immediato. E qui finisce la parabola di Rudy Kurniawan. Ore dopo, quando l'FBI perquisisce la casa, trova migliaia di etichette di vini di altissima qualità, dei famosissimi chateaux francesi, tra cui Petrus 1950, La Fleur, Lafitte e Romane Conti 45-47, le vendemmie strepitose. Ci sono centinaia di tappi vecchi e nuovi e naturalmente imbottigliatrici ad hoc. Ci sono capsule di piombo, cera lacca, timbri di gomma con annate, chateaux, come addirittura Latour 1899-1900, addirittura uno Screaming Eagle 1992, altro ricercatissimo e introvabile Rosso California. C'è di tutto, c'è la colla, le forbici da taglio, gli stampini e addirittura pregiata carta Fabriano, la Ingress. Ci sono istruzioni dettagliate per fabbricare le etichette, ci sono bottiglie di vino scadente della Napa Valley, su cui ci sono attaccati post-it, indicanti il nome della cantina, la vendemmia, in cui si trasformeranno magicamente quei vini. E inoltre ci sono decine e decine di bottiglie vuote, originali, dei grandi chateaux, un vero e proprio laboratorio della contraffazione. E pensate che dietro questa losca vicenda non c'è solo la truffa, c'è anche una gigantesca beffa. Decine di super esperti, super collezionisti, super sommelier, periti delle grandi case d'asta, i grandi guru della degustazione mondiale, come Robert Parker, gente allenata e addestrata da anni all'assaggio di questi vini, tutti beffati. Perché ricordiamolo, non si tratta solo di falsificare tappi, bottiglie, capsule, ma si tratta anche di realizzare fisicamente un vino che, una volta aperto, abbia le sembianze in tutto e per tutto di un vino vintage, di altissimo livello. Questo è clamoroso e letteralmente incredibile. Tante domande vengono poste. Per esempio, quando Kurniawan ha iniziato a contraffare le bottiglie? Subito dall'inizio, 2002-2003, ideando quindi fin dal principio un piano diabolico e paradossalmente geniale, oppure dopo, verso il 2005, quando iniziava ad entrare in crisi, profonda crisi finanziaria? E poi chi ha davvero finanziato gli inizi di questa attività? Milioni di dollari utilizzati per acquistare migliaia di bottiglie? E' spalleggiato da qualcuno, dalla criminalità organizzata, ha fatto tutto da solo, aveva dei soci? Domande destinate a non avere risposta. L'unica certezza è che Rudy Kurniawan, per anni considerato uno dei più stimati esperti e collezionisti di vino francese negli Stati Uniti, si fa due anni e mezzo di carcere preventivo durante indagini e processo e poi verrà condannato a 10 anni di reclusione da un tribunale federale di Manhattan per aver contraffatto e venduto per almeno otto anni migliaia di bottiglie pregiate per milioni e milioni di dollari. Viene condannato anche a risarcire le sue vittime per circa 28 milioni di dollari e altrettanti 20 come parte della pena, cosa che in gran parte non farà e non risarcirà perché dichiarerà fallimento. Prima della lettura della sentenza il giudice chiede a Kurniawan perché ha fatto tutto questo, lui non risponde, risponde il suo avvocato, dice che lui appartiene a una famiglia benestante che non ha truffato per avidità ma solo per inserirsi in un contesto elitario per essere stimato e rispettato e poi per soddisfare la incessante richiesta dei suoi clienti, che non trovavano più vini sul mercato se non da lui. Ci credo. Ma brevemente, come Rudy realizzava i suoi vini? In realtà ha utilizzato diverse tecniche. È probabile che almeno inizialmente miscelasse anche vini molto pregiati tipo due bottiglie di Petrus 81 e 83 dal valore di circa 1.300 dollari l'una per farle diventare due bottiglie di Petrus 82 che però hanno un valore di 4.700 dollari l'una, quindi conseguendo un guadagno netto di circa 8.000 dollari e ottenendo peraltro un vino molto vicino all'originale. Invece con i vini minori dove storicamente non si utilizzavano tappi marchiati con il nome dello chateau o dell'enologo semplicemente, tra virgolette, rietichettava la bottiglia con etichette di vini molto più pregiati e costosi, oppure utilizzando appunto le bottiglie originali vuote. Infatti questo è un mercato interessantissimo. Pensate quanta gola possa fare ad un falsario una bottiglia di Petrus vuota, di Cheval Blanc, di Romane Conti. Quanto lavoro risparmiato per un falsario e quanto ridotto il rischio di essere sgamato. E questo purtroppo si è capito molto dopo anche grazie al caso Courneauan. Dopo qualche tempo i grandi chateau hanno imposto ai propri fornitori la restituzione o la distruzione delle bottiglie, per esempio. Altro sistema era quello di realizzare dei veri e propri blend con vini molto ma molto meno pregiati, come peraltro sono stati trovati nel suo laboratorio. E qui però va detto bisogna possedere un talento davvero fuori dal comune. In conclusione, amici sbevazzoni, va fatta almeno un'altra considerazione, visto che di fatto è stato preso per i fondelli l'intero gota del mondo del vino di altissimo livello. Va detto che nell'ambito dei vini vintage, preziosissimi e veramente antichi, è davvero difficilissimo avere sempre la certezza dell'autenticità della bottiglia. Stiamo parlando di decenni, decenni e decenni fa. Non c'erano registri nelle cantine, non si sa esattamente il numero di bottiglie prodotte, etichettate, in quali confezioni, con quali tipi di etichette. A carriamo parliamo di 70-80 anni fa. Non si era così organizzati e soprattutto il valore di quelle bottiglie era infinitamente all'epoca più basso. E anche dal punto di vista sensoriale, va detto, avessi mai la fortuna di assaggiare un Romanet Conti del 45 nel 2010 e riassaggiarne una rarrissimissima bottiglia nel 2020. Sono comunque due vini diversi, sono passati dieci anni. E anche la tecnologia più avanzata, con i dispositivi tecnologici più avanzati, non riesce a mirare esattamente sull'annata precisa. Ci sono grossi margini di errore anche lì nella verifica. I produttori, i grandi produttori sono reticenti a dichiarare determinate etichette dei falsi. E anche le case d'asta, per ovvi motivi, di indenizzi, di risborsi, di assicurazioni. È un mondo davvero complicato. Ricordo che questa storia è diventata un bellissimo docufilm dal titolo Soar Grapes, tra i più visti su Netflix. Ah, dimenticavo, Rudy Kurniawan è tornato in libertà il 7 novembre del 2020, uscendo dal Correctional Institution Revise di Pecos in Texas, dove peraltro aveva appunto trascorso gli ultimi sette anni della sua vita. Ha nel taschino un ordine di espulsione immediata e perenne dagli Stati Uniti d'America e quindi viene immediatamente caricato su un aereo per Jakarta, dove peraltro raccontano le cronache, si lamenta vistosamente con le autorità che lo stanno scortando perché non gli è stato riservato un posto in business class. E quindi il dottor Conti è ritornato. Certo, non è affatto detto che riprenda a delinquere, ma l'élite mondiale del vino ha, comprensibilmente, iniziato a tremare di nuovo. Con le gambe, con il culo, coi miei occhi, ciao! No No Grazie a tutti.